potere pelato sono spaccato nel senso che ho i pacchi evviva ciao com'è l'audio si sente fa schifo no funziona ok evviva pacchi come state buonasera ciao potere petato potere ho visto che sarai ospite rimini comics beato te contadino non c'è il mare a san marino è tornata la portinaia no ho intercettato il tizio misterioso dell'agenzia di polizia che evidentemente si frega i pacchi cioè li mette nello sgabuzzino perché giustamente ci toffonare a me è brutto sì non ero i mini comics è san marino comics i mini comics c'è già stato le bimbe di pelati e fumetti minchia erano due settimane fa o è quello del 2023 hanno paura della pelata chi potere pelato la foto che hanno messo era incredibile la foto che hanno messo era incredibile e in realtà è la foto che trovate su imacariu monte titano comics tanta roba oggi no qualcosina è più scena che altro potevano metterla in un pacco decisamente più piccolo volendo infatti è leggerissimo sarà pieno di carta effettivamente è sempre pieno di carta ciao papi belge panini pacco panini cercasi paninata grazie cubanino per la propria sub bentornato e più che altro avrò da qualche parte il taglierino non lo vedo guardo sto guardando con ho perso il taglierino eppure ce l'avevo qua un attimo fa oh non so dove è però ho trovato una pinzetta ma non invece lo sa perché studia ecco ma non sa cos'è il monte titano non ne ho la minima idea il monte titano è tipo san marino ottimo ottimo panini cerca laureati in marketing beh sarebbe il caso effettivamente però non piglierei dei laureati se fossi loro prenderei gente che ha fatto quel lavoro più che altro perché insomma però sì ne hanno sicuramente bisogno più che altro gli basterebbe prendere un qualcuno che si occupi della funzionatamente cosa senza marco rizzo con il marketing texviller marco rizzo fa per quanto non capisca nulla di certe cose comunque non è non lavora nel marketing panini il monte principale di san marino c'è anche una specie di castello sulla cima bene ne sono felice e marco rizzo non scrive gli approfonditi sì ma il marketing è un altro capo ok è una specifica dalla fumetteria sono pari di 150 euro evviva io no mi sono dovuto grazie franz per la sub mi sono dovuto controllare in fumetteria perché sennò finivo i soldi del mese e non potevo più mangiare tipo però fortunatamente ho chiamato la banca e ora sono più sollevato e quindi tutto molto meglio però comunque sono povero evviva tra l'altro dovrei cambiare telefono vediamo sarebbe il tuo lavoro dei sogni lavorare a panini scommetto beh non sono laureato in marketing però vedete che sono posti difficili non di solo pane vive l'uomo ma anche di cursi ascolta c'ho questi che ho preso ieri poi c'ho questi e domani o dopo devo andare comunque in edicola alla ricerca dei fumetti bonelli per cui insomma direi che per questa settimana sto a posto too much money too much money 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 e comunque ci sono delle cose che vorrei recuperare ma recupererò settimana prossima così beh con la fantastica card di panini manga secondo me saranno finite tutte esattamente 5 minuti dopo che inizia agosto tipo tutti che compreranno migliaia di euro di manga panini per comparsi tutti sul treno tutti sul treno odio le uscite del sabato bonelli non ci sono quasi mai da me ci sono sempre però ok tex tu dov'è che vivi? che non hai le fumetterie non ti arrivano i fumetti bonelli? no no manuel la fumetteria sta in metropolitana cioè c'è la fumetteria ledicola non mi sembra il caso la live è verso l'edicola comunque io domani parto per il campeggio ultima live per un po' ma non ce l'hai uno smartphone perdonami smartphone? nella calda bruttezza di una tenda guardi le live si ma non prende minchia che posto orribile perché andate in campeggio? chi ve lo fa fare di andare in campeggio? sì comunque da domani è agosto in effetti sarà la morte di tutto cioè da domani da lunedì è agosto la morte di tutto per prepararmi alla visione del futuro film Avengers Secret Wars ho intenzione di fare 10 km di corsa 100 flessioni 100 squat 100 addominali ogni giorno secondo te è sufficiente? devo fare anche qualcos'altro? sì devi anche leggere le storie anni 40 di Capitano America secondo me comunque grazie a non so chi Johnny379 per la sub 13 mesi grazie grazie no eri tu? ma scusami sono perso scusate c'è qualcosa che non una non mi è non mi si è palesata mistero cioè mi è arrivata la notifica l'ho letta quella di Fraz che però non appare che non appare i misteri ah perché era la conversione di un abbonamento prime a un abbonamento livello 1 quella che cosa complicata si vede che non lo so ti ho ringraziato ma non avevo letto la conversione a perché non appare di fianco e quindi non capisco comunque potere pelato a tutti e mio zio aveva una sola sub giusto i tre bonus di Batman di Norris sono sì sì i tre bonus di Batman di Norris sono assolutamente da leggere ma non so chi sia Norris chi è Norris? e grazie per il tifo papi bella per i 95 bit e anche ad Aris Twitch per il follow grazie Aris yuppi sarà Morrison forse Norris sì non c'era arrivato davvero non lo stavo trollando proprio non sapevo chi fosse e sarà Morrison sì no quelli di Morrison di Batman sì sono da leggere e ci ho impiegato un po' a realizzarlo Chuck Morrison sì sì lui da me tre avverono a centro e poi più niente c'è solo una libreria giusta per i manga essendo mondatori ciao mi è arrivato io sono Hulk coordinato da Panini devo dire che è un gran bel volumone sembrano più di 352 pagine dubito più di 352 pagine di 352 ma bello io forse domani vado ad ordinare il primo omnus degli X-Men di Claremont mi piacerebbe farlo anche a me ma non ho voglia di spenderci dei soldi e cioè boh lo vorrei vorrei anche i masterworks degli X-Men classici un colpo di tosse è presa ma me manca un mese Tex posso anche prendermi il covid adesso ma le pagine non sono luce nooo merda e adesso The Max come fai si ha le pozze è un bel volumino preferirei il Ghost Rider anni 80 90 però fa niente oh ci sono dei cosi che saltellano sopra la barra dell'hyp train mi fanno un po' inquietudine ho finalmente iniziato gli Omnus Invincible grande io ne ho due dovrei comprare gli altri a un certo punto ma sono povero buonasera hai già letto io sono Batman il nuovo volume su Batman no non l'ho letto non ancora ce l'ho là e se non sono lucide buttalo nella carta giusto anni 90 tipo Johnny Blaze che diventa un cyborg no Johnny Blaze mi fa cacare l'unico vero Ghost Rider per me è Danny Catch e quindi quelle con Danny Catch esattamente quelle lì quelle belle insomma degli anni 90 e boh ora mi dedicherò al mio sport preferito dormire sopra i pacchi panini sarà arrivato il cartonato di Darth Vader perché Wolf Text devi sempre fare spoiler ti bannerò io l'ho già ordinato in fumetteria non so cosa dai comunque mi piace un sacco anche se le pagine sono ruvide era peggio se non ti piaceva visto che sono ruvide perché se non ti piaceva poi non potevi nemmeno usarlo per pulire consigliate qualcosa su Ghost Rider mi ispira troppo il personaggio eh no Manuel mi spiace ma non è possibile perché non c'è niente di trovabile sì sì ti banno per spoiler no spoiler basta spoiler basta fare spoiler sul contenuto dei pacchi non si fa addio un pelato stanco buonasera ciao Teo ma Johnny Blaze non è il Ghost Rider originale sì ma non me ne frega niente mi sta sulle palle preferivo Danny Catch Danny Catch nel pacco c'è un cuscino no perché è duro fai la reaction al trailer di Shulk e Black Panther no ciao Umberto ciao 91 Albi ciao Manuel è un duvissimo è duvissimo duvo 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 Absolute Descendants no quello sicuramente no c'ho questi Jedi sinceramente ho questi mi tengo questi ora a meno che qualcuno non si offra di comprarsi tutti questi tranne l'ultimo che non ho però gli do questo non li cambio mi tengo questi mi sembrerebbe sinceramente di buttare via i soldi e comprarmi l'Absolute anche perché questi sono molto più comodi da leggere tra l'altro al mondo del ristor ogni tre manga star ti danno un comodo sacchetto da scarpe star ce l'ho ne ho due di che sacchetti da scarpe star ok me li hanno dati dal torino comics uno l'anno scorso e uno quest'anno o il contrario non mi ricordo mi piacerebbe che quelle di star mi cagassero tra l'altro perché sanno chi sono ma non mi cacano nemmeno di pezza grazie star comics so che mi volete bene devo fare più review dei vostri fumetti proverò a farle però che cazzo oppure non devo ma non lo so non amo non essere considerato dai cosi anche io li usavo per portare la roba della ginnastica a scuola sai amica con quali storie chi eh si non è una miniserie unica non è un è un must have quindi è la abbiamo parlato prima di la via delle lacrime mi ricordo la strada delle lacrime quella roba lì la trovate su anteprima potere pelato non è mai consigliato gi 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 cioè è bello quel volume Lady Sandman però sinceramente mi vanno benissimo questi non lo trovo così necessario averlo gigante quando ci sono questi qui che ho già però ammetto che se non ce l'avessi in un'edizione figa magari ci penserei però buh trovo che non sia necessario forse per quel tipo di pubblicazione lì grazie per la sub bello perché mi piace quando vi sabate e le sab diminuiscono è sempre divertente da vedere ora forse non l'ho registrato ma non ne abbiamo fatte 5 secondo me ne abbiamo fatte 4 però comunque è bello vedere che 6 no 6 non le abbiamo fatte si vede che erano quelle di ieri però è bello vedere che la gente si sabba e le mie sab diminuiscono perché scadono tutte quelle vecchie si però il concetto è che Sandman nella maggior parte delle storie non è che ha dei disegni che sono così di impatto importante da dire oh mio dio devo averlo sicuramente gigantesco non lo so per me funziona benino anche così e poi è una storia molto lunga e molto verbale quindi non lo so però figo è comunque l'absolut tra l'altro qui dentro ci sono più o meno i contenuti degli absolute oltretutto per cui no no ci sono sì in realtà questi qui sono esattamente la quello che c'è dentro gli absolute appunto l'unica cosa che manca è l'ultimo in teoria quanto faresti per questa edizione ma che cazzo ne so che sta affrontando ma poi perché dovrei venderla e poi lo sapete che non vendo i fumetti per cui è inutile che mi chiedete queste robe non ne ho la minima idea è proprio una roba che non ne ho la che ne so valgono 130 circa un scherbo 50 beh sì quello conviene comunque quelli di di NIT nelle live di ieri hanno detto di avere in cantiere alcuni titoli che da proporre a un costo più basso dello solito del 190 del 190 passano a 1280 è una battuta bella i prezzi di NIT secondo me sono fuori mercato ma non perché ha i fumetti firmati no non lo sto sì qualcosina poca roba non mi eccitano questo tipo di cose a me scusatemi si sta smontando la sedia sta smontando ancora meglio ok non mi eccitano a me le edizioni fighi cioè mi piace avere una bella edizione di un fumetto è la firma dell'autore interessa molto relativamente sì se becchi l'autore ti fa lo sketch è carina come cosa però non è che ci muoia troppo fuori mercato ma è quello il fatto allora ad esempio le opere quelle in come si chiama non ce le ho più qua quelle con la copertina ruvidona grossi sono quasi tutti molto di nicchia per cui ci sta che li propongano a un prezzo alto quello che mi fa ridere sono quelli tipo shonenazzi del cavolo sì showcase sono gli shonenazzi del cavolo a 1290 in formato un po' più grande in formato quello da Kanzenban senza sovracoperta perché cioè che senso ha sono bruttini anche da vedere secondo me per cui bravo frazzi dove l'hai beccato David Mac perdonami se ti trovo mi firmi un fumetto no etna comics faccio etna comics David Mac ma poi ha lavorato su cosa dal panettiere di Filugia si trova David Mac deve essere già un pelato in copertina eh io ho una variant di Invincible di Lucca autografata da Hotley no io ho solo la variant di Invincible di Lucca senza l'autografo di Hotley perché non c'avevo voglia di starlo in fila è qua non dell'omnibus ovviamente di questo dell'ultimo volume copia numero 224 di 250 comunque una firmetta no non mi metterò mai allora a me se non concesso che io sia a Lucca Comics non mi metterò mai in fila per fare la firma da Romita mai nella vita per cui a meno che all'improvviso non diventi amico di Panini amico di Panini ciao sono pelati i fumetti e sono amico di Panini eh dubito proprio non me ne frega un cazzo se devo essere sincero quella di Ortolani ce l'ho c'è pure quello qua qua cazzo o meno fatevi firmare i fumetti io c'ho lo sketch di Destino Ratman mi va benissimo tra l'altro pezzo di antiquariato cioè c'ha 20 24 anni sto coso mi si è smusciato il blocco aspettando ok di chi è il ciclope è di Pino Rinaldi quello del 96 però non mi farei mai filmare un fumetto mi sembrerebbe di rovinarlo quello perché sei un po' tarato Pegas perché se te lo rovina l'autore del fumetto non è rovinato questo è un discorso da no guardate io non apro le valla non tolgo la plastica dalle copertine dei fumetti nuovi perché così vale molto di più hai mai visto Clermont non ne ho la minima idea non credo però non lo so no no io non tolgo la plastica dai miei oggetti perché minchia con la plastica sono molto più belli e valgono molto di più poi non me ne frega niente a me dell'oggetto c'è di possederlo e di leggere non me frega un cazzo però io sono un collezionista quindi tengo le cose chiuse e nella plastica e le metto sopra una scrivania anzi in una cassaforte dove non posso neanche guardarle che sapete la luce gli fa male io ho recuperato la prima stampa dello spillato del nuovo amazing spider originale ho abbastanza hype non mentirò ho recuperato la prima stampa dello spillato del nuovo amazing spider perché l'hai fatto? io no tolgo il tappo dalle bottiglie per bere se no non per io non ah non se non mi metti no non capisco un cazzo Umberto e Clermont infila per il bagno a Lucca non lo vedo molto probabile ma non si sa mai anche perché io non vado in bagno è risaputo quando andrò a Lucca non andrò in bagno se vado a Lucca cinque giorni non andrò in bagno per cinque giorni fumetti sotto vuoto sarà il futu esatto ma secondo me dovrebbero anche smettere di metterci quella roba dentro cioè adesso perché io dovrebbero piantarla di farli così con tutta questa roba dentro no poi c'è anche crisi della carta ma scusate fate la copertina e dentro ci fate una scatoletta della dimensione così di carta che così hai la copertina sopra plastificati io li metto in libreria sono bellissimi cioè basta con tutta questa sprecchiamo inchiostro carta no scusa eh ma non è che ti scrivono sul libro Pegas84 cioè è la firma dell'autore nel caso di Boruto eppure sì nel caso di Boruto è vero ti dirò ci stavo pensando mentre lo facevo questa scenetta però basterebbe mettere se le solo le copertine oggi come oggi chi legge più i fumetti esatto l'ho appena detto io Dario non serve che lo ribadisci è lì che ci sono quei libri finti esatto esatto quelli e pesano anche meno è vero quindi non si imbarcano tu hai l'absolut ho comprato l'absolut di Watchmen pesa niente perché dentro non c'è la storia ma mica volevo la storia cioè c'è il file c'è la chiavetta poi se proprio vuoi leggerlo lo metti nel pc e te lo leggi sul telefono telefono vuoi scaricare un codice per leggerlo sul telefono e oggi vado a vedere Thor ancora Cristiana mi deludi non l'hai visto al momento alla prima insomma mi deludi molto mia nonna aveva i libri cavi dentro una storia copertina dove ci smetteva i soldi era il mio banco Matt nel senso che le rubavi i soldi Dario bravo bravo Dario così si fa anzi potrebbe essere una nuova tipo di variant si comprano solo gli slipcase degli apps anche mi sembra tutto molto giusto guarda quanta gente sta arrivando soltanto perché diciamo cazzate funziona fare io mi impegno invece devo prendere due scatole le metto sul coso e poi rico stronzate forse perché giovedì la gente dice sto per partire per le vacanze andiamo a salutare il pelato e mi compravo i fumetti la cazzate è il miglior continent di twitch sì in effetti sì siamo tutti d'accordo su questo però ero in vacanza e stavo quasi facendo l'esame cosa vuol dire quasi fare l'esame della patente cioè o lo fai o non lo fai anch'io vado in vacanza a fine agosto mi trovate il 27 28 e 29 agosto a Rimini no non è vero a San Marino Comics dove no no non so ancora cosa devo fare ma non lo diciamo a Comics San Marino dove devo fare delle contenuti bellissimi eh sono già andati via dieci spettatori è il calo diretto dai che ci si vede San Marino Comics San Marino Comics vi ridico il giorno aspettate tra l'altro io ho rimasto che dovevo alzarci tre giorni ma qui c'è scritto due ma si sono diventati due cioè a me va benissimo anche due eh per carità però siamo tornati a 100 100 100 100 no mi dispiace perché poi mi boh mi hanno rimandato a settembre no Cristian Coso è stato rimandato a settembre il terzo giorno non ti fanno entrare no ma guardate che non c'è il biglietto a rimanere a San Marino eh è aperta al pubblico San ma ah che palla facciamo così scusatemi facciamo prima allora va 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 dov'è che si ah no è qua scusate io per trovare lavoro non San Marino cap cazzo sono pure simili allora a parte quanto sono a parte quanto sono bello che cioè voglio dire perché l'esaminatrice è stronza mi hanno spoilerato che l'esaminatrice quindi mi hanno consegnato di mandarla a settembre per questo motivo io vedo dopo tre settimane ok ci sta bravo dovevi studiare per l'esame ma poi non l'hai fatto capito sono creator fotografo collezionista di fumetti sarà con noi durante il mi aspetta il 27 il 28 agosto durante San Marino Comics 2022 con tante interviste e panel tutte per voi allora qui ero in Games Week cioè è fatta in Games Week sta foto con la mia il puno cerco i poliziotte americani no mi dice che palle guarda Dario che c'è la guarda Dario che cosa dice Dario potere pelato giusto mi sembra giusto mettiamo un like a Dario sui miei canali Twitch quanti ne ho e poi quando è uscito ero in vacanza nel mio paese d'origine l'Albania io sono albanese bene buono anche no non mi ricordo chi è albanese quello di Tech Princess è albanese Tony Stark ha fatto anche cose buone grazie per il follow grazie sostengo il nostro stream a 360 gradi grande Dario vado a commentare anch'io per spammare il potere pelato Fiona si esatto il piave mormorava calmo e placido al passaggio il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio l'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una barriera multi passaron no multi passaron quella notte i fanti tacere bisognava andare avanti e andare avanti suddiva no aspetta ho sbagliato suddiva ma non ci sono le virgole mi incasino suddiva intanto dalle amate sponde sommesso a lieve il tripudiar dell'onde era un pesagio dolce lusinghiero il piave mormorò non passa lo straniero zan zan bella sempre belle le canzoni di guerra degli anni prima guerra mondiale tipo qui cantante mettiamo su una band sì ma io le canzoni di guerra le cantavo mentre andavo all'asilo con mia mamma per cui se volete vi canto anche bombardano cortina un pezzone e la penna nera degli alpini un altro pezzone assolutamente però così non passa lo straniero è un po' fascio però fangier vabbè all'altronde c'era la guerra però la canzone del piave è prima guerra mondiale credo non lo so canzone del piave canzone del piave la canzone del piave wikipedia giugno 2018 subito dopo la battaglia del solstizio sì 15-18 o il covid no non è vero forse o vicentino ma le miccette vabbè era anche divertente la cosa del piave già non è più divertente se che problema ha sto tipo cos'è una roba una canzone una roba un tipo da stadio andavi all'asilo o in guerra e un po' entrambe le cose e concerti in piazza d'uomo sponsorizzati da panini e boss del fumetto bello mi piacerebbe molto ma non era fascista è della prima guerra mondiale ci canti una canzone rap no me lo bannate per favore devo sempre bannarli io dai devo bannarli siete siete dei mod lenti perché non c'è il coso del bann dov'è? ah qua ok vabbè cioè nel senso è ovvio che è un bann è ovvio che è un troll e basta è uno che spamma roba fa copia e incolla cioè dai ci devo parlare e perché l'hai rimosso e rimasto quale da lì a quattro anni iniziava il ventennio sì ma è un po' diverso il concetto certo che questa live attirano gente strana no vabbè è twitch cioè non è strano è twitch i rincoglioniti abbondano oddio sono rincoglionito cosa faccio oggi vado su twitch e faccio dei copi e incolla a caso ovvero la canzone del piave poi roba francese cioè una roba perché francese poi conspirazioni venete e roba contro il napoli ah sono proprio un coglione sì quindi sei un fotografo di professione più o meno poi è arrivato il covid e la mia professione è morta e non è più ripartita quella con la parola bisinia nel testo eh vi ricordo che all'utente chiamato eh viva ciclope è vietato parlare di fascismo anche in modo ironico anche in modo critico non ne deve parlare quindi è ladro di professione e casanova per passione esatto noi invece possiamo più di lui però evitiamo magari comunque tornando a noi cosa conterrà questo pacchetto bellissimo un fumetto bellissimo che ha una storia complicata perché questo fumetto l'avevo ordinato settimana scorsa no questo non è panini questo è panini questo fumetto l'avevo ordinato settimana scorsa lunedì lunedì no domenica notte è partito mi hai dato il messaggio di amazon il tuo pacco è stato spedito arriverà domani la mattina mi arriva una notifica il tuo pacco non può essere consegnato è stato riconsegnato ad amazon ti ridiamo i soldi vado a vedere su amazon e il fumetto prima era non disponibile dopodiché è proprio scomparso da amazon c'era soltanto boh il segno a cazzo poi tre giorni dopo è riapparso ho scritto al servizio clienti e ho detto ma scusate sì sì è un omnibus vedi è un omnibus e piuttosto che aspettare che mi ridiate i soldi e poi devo farlo non è che me lo rimandate e basta me lo hanno rimandato ora cos'è successo io non lo so però e cos'è vi chiederete voi ma ovviamente è il fumetto preferito da la nostra amica Ellie ovvero Redo Willer evviva Redo Willer yuhu posso farvi vedere qualcosa di Redo Willer non lo so prima lo guarderò io e poi ve lo faccio vedere scusa una demonessa con le ali e una montagna di montagne non è un insieme di ma diciamo che ce ne sono un po' troppe per essere fatto vedere su Twitch ecco anche se in realtà boh no oddio non è che si è migliorato poi molto a vedere da qua vabbè non lo so non lo so perché l'abbiano rimesso e poi l'hanno girizzato fuori è stranissima sta cosa cioè io ho pensato che tipo non lo so hanno spedito il 7 invece dell'8 perché non gli era arrivato non ho idea però demonessa yuhu dovrei bere dell'acqua perché ho la gola secca acqua che poi è quella nella copertina in realtà ma quindi appurato che è arrivato Vero Viller vediamo cosa c'è in quest'altro pacco quello che non posso aprire perché non ho il taglierino aspettate che allungo lo sguardo e vedo se trovo il taglierino datemi un secondo l'ho trovato però facciamo un'altra ripresa se no vedete cosa c'è dentro non è bello quale sarà l'alto e il basso secondo voi secondo me è questo l'alto però non ne sono mica sicuro forse era l'alto forse era l'alto non lo so in teoria sì il pacco dovrebbe essere sopra la carta oggi non c'è la carta di merda quella sbirulosa però c'è un sacco di carta in comprensione non c'è la mica carta sbirulosa che è un po' la mia carta preferita però allora Vero Vinciclope si becca 10.000 come ho detto prima dovete piantarla di dire cos'è che ho comprato quindi ti becchi una sospensione di ma non c'è più la quantità di sospensione scusate mi hanno modificato le opzioni qua no non dovete raga allora non è divertente se scrivi se sapete già cosa c'è dentro perché avete visto la live prima in cui magari ho detto me lo ordino evitate di dirlo cosa c'è dentro perché non è divertente un sacco di volte è stato sospeso però mi hanno tolto la quantità di sospensione scusate sospendo una persona a caso per poi riammetterla ora non so più riammetterti aspettate che lo riammetto forse aspettatori ok una volta c'era il numero la quantità di cose perché non c'è più boh vabbè sì ho eliminato le mie bimbe no niente ho detto che l'ho fatto a caso mi sentite quando parlo ogni tanto mi sembra che non mi seguite ha senso comprare il must have di venom oddio qual è il must have di venom cos'è origine oscura quando è uscito vabbè comunque guarda se è uscito l'avrò detto se ha senso o no perché c'è un video apposta comunque ribadisco non dite che quello che sto per aprire non è divertente perché non rivederla chat ok va bene è veloce panini a spedire no è abbastanza veloce sì in generale però allora non ti aspettare amazon nel senso che amazon ti arriva sempre quando deve arrivare panini in genere è veloce però magari a volte capita che non le spedisce subito a cazzo il primo oggetto presente nel pacco è deadly class numero 9 sì Pegas perché sono quelli che sono sempre qua e quindi ovviamente devono ribadire quello che ho detto io nella live precedente anche perché l'ho detto la settimana cioè l'ho detto lunedì però minchia cioè capisci che non è divertente si perde proprio il divertimento di dire oh vi faccio vedere quello che ho preso no perché me l'avete già detto in chat ma facciamo così li tiro fuori poi ve li faccio vedere sennò è un po' complesso finalmente posso leggerirci The Killer mi devo rileggere il primo però perché non me lo ricordo ce l'ho da qualche parte ma è quello io che cioè non è che chiedo molto dico solo ragazzi sapete cosa compro perché magari l'ho già detto evitate di dirlo nella live perché non è divertente e poi per concludere insospettabilmente come nessuno si sarebbe mai aspettato sì ho preso Darth Vader guarda un po' che è un po' sporco vabbè hai già tutti gli altri numeri 10 no l'uno avevo preso l'uno anni fa poi non l'avevo continuato perché boh e adesso lo sto rifacendo ho deciso di farlo ma è Yamamoto a me lui piace per cui non mi dispiace per cui me lo leggo volentieri vero che sorpresa è incredibile ma io ho letto il primo capitolo sulla sullo special cioè sullo spillato l'ho trovato carino e interessante quindi ho preso anche questo che fastidio se non altro qua non sembra anziano perché ha visto Obi-Wan che momenti di tristezza ma voi ve lo ricordate vero Obi-Wan cioè l'episodio il momento flashback in cui Anakin sembrava più vecchio di Obi-Wan è stato veramente perché no noi non usiamo più la CGI perché alla gente non piace quindi mettiamo degli attori invecchiati male vicino a un altro che è probabilmente immortale quindi non invecchia e la cosa non fa affatto ridere considerato che dovrebbe essere un flashback comunque la deadly class lo compro a caso lo ammetto ho letto tipo il primo volume siamo al nono però è molto figo e mi piace vederlo è visivamente molto interessante è che mi piace molto graficamente se ne vuoi essere sincero però non so di cosa parlo Pegas anche io io li ho ordinati lunedì sera e me li hanno spediti ieri hai guardato l'email perché è strano era tutta roba disponibile c'è uno che caga mambo natale samurai oh braccia mozzate ci vorranno un po' di mesi per finirlo tipo nove ma è molto figo devo decidermi a leggerlo deadly class anche perché ce l'ho tutto qua è un po' di mesi non credo che sappiano chi sono quando faccio gli ordini in panini però generalmente sono abbastanza veloci in panini comunque però sì allora per la consegna sì michelet però per la spedizione oh l'ho messo i strotti cioè in teoria la spedizione dovrebbe arrivare insieme cioè dovrebbero spazzire più o meno insieme poi boh quanti soldi in una sola inquadratura ecco ora per quanto riguarda Ichi mi sa che è un po' bannabile però è un buon disegnatore il buon video Yamamoto io devo ancora mi sa che non ho mai letto il finale dell'ultima serie Christian Zaka hai mai pensato a panini come sito per ordinare degli spillati di panini mi sembra quello più comodo se no il sito di una fumetteria che ti venga vicina è comoda Milano ci impiega veramente una notte per arrivare alla roba panini cioè me la spediscono il giorno prima e il giorno dopo arriva però è perché è Milano cioè è diretto per me se sei in un posto più piccolo ciao panini quando spediscono panini quando spediscono è una domanda panini quando spediscono Tony Stark ha fatto anche cose buone ciao Enrico X-Man benvenuto potere pelato sei mutantato vabbè invece abbiamo il nostro Darth Vader nuova serie ambientata anche questa esattamente come quella di Star Wars nel periodo subito successivo all'impero colpisce ancora e infatti parte più o meno allo stesso modo se non ricordo male infatti vediamo esattamente lo scontro con Luke io sono tuo padre bracetto che vola e ciao è Leia no no non è Leia forse è cosa ah già era la tipa che sembra Padme è vero non mi ricordavo più il primo alla fine del primo capitolo come grosso il primo capitolo sembra molto Leia essendo Padme Zini sono fighi di chi sono? di Raffaele Ienco domanda da uno che si è che ha recuperato da poco Star Wars i film un Sith sarebbe uno che è passato al lato oscuro o altro no tecnicamente un Sith non passa al lato oscuro tecnicamente i Sith sono una società che è sempre stata del lato oscuro tecnicamente un Jedi che passa al lato oscuro oscuro è un dark Jedi per capirsi come si può dire nel senso che Jedi è il nome dell'ordine i Sith sono al loro stesso modo un ordine specifico non tutti gli utilizzatori del lato oscuro sono Sith così come tecnicamente non tutti quelli che usano la forza sono per forza Jedi cioè anche se non cedono al lato oscuro e quindi è un po' più complicato di così poi generalmente se un Jedi diventa sì Vader è un Sith perché Palpatine era un Sith e quindi lui diventa il suo apprendista e quindi diventa un Sith però non è così automatica la cosa cioè non è detto che se tu sei un Jedi oscuro allora sei un Sith infatti nella serie classica i Sith nemmeno esistevano tecnicamente non so dov'è che si parla per la prima volta di Sith si dice si dice scrive Darth Vader si scrive tipo Kylo Ren non è un Sith esatto ah Sith era usata nella rock draft di Star Wars e nella novelization quindi nel romanzo si parlava di Sith e al cinema per la prima volta hanno parlato di Sith nella minaccia fantasma anche in dilettate footage from the original film in Italia e altri paesi che mi hanno vedo con Fener si vabbè quello la nuova trilogia è una merda e non esiste non sono d'accordo la nuova trilogia è meglio della trilogia per quanto mi riguarda però aspetta aspettate faccio il ragazzino di 12 anni ci tengo che schifo hanno riportato in vita Palpatine fanno proprio cagare questi qui della Disney scusate e comunque a parte questo devo dire che la trilogia prequela è una merda Fener era all'adattamento indiscutibile del primissimo doppiaggio italiano è un po' come Leila Jan Solo Jena Pliskin anche se non c'entra posso rifare il bambino di 12 anni che si arrabbia perché torna Palpatine e niente volevo solo dire questo oh no mi hanno rovinato la aspetta com'è che era la profezia io amo la profezia di 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 Star Wars perché mi ricorda un po' la profezia di Harry Potter dovevi salvare i Jedi non unirti a loro dovevi distruggere i Sith non unirti a loro scusate spoiler erano i Jedi che non hanno mai capito la cosa effettivamente Darth Vader ha portato equilibrio nella forza perché prima la forza pendeva dalla parte dei Jedi erano migliaia contro due Sith dopo Darth Vader ci sono due Sith e se va bene due Jedi e comunque sì Yenak Blisky con il totaggio di serpente top e e aspettate posso farne ancora e Leia che si no aspettate Padme che si stupisce quando Anakin ammazza bambini nel Tempio Jedi perché non l'aveva ancora fatto ah no aspetta l'aveva già fatto sul pianeta dei sabbipodi Tatooine ma vabbè solo perché uno ha sterminato una famiglia prima non vuol dire che poi non lo rifarà eh dai Umberto per quanto fosse tutto basato su una storia d'amore almeno Lucas aveva un'idea per dire tra i film eh 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 tuo padre aveva bramava il potere no in realtà tuo padre era un coglione si è preoccupato perché pensava che sua moglie sarebbe morta e quindi per l'amore lui è diventato malvagio ma soltanto per salvare sua moglie ora io preferivo Darth Vader nella cosa classica quella in cui sedotto dal potere del lato oscuro ovvero nella brama di potere diventava stronzo non che diventava stronzo perché sono un personaggio complicato io amo la mia mogliettina e quindi no sei uno stronzo ma mind keep spoiler sai che esistono tipo prima di disney era già stato risuscitato palpatine nei fumetti e nei romanzi che facevano da sì quella ai fumetti cioè la dimensione dell'universo espanso era talmente grande che la mulca era già stata monta da tempo il fatto di portare un po' di quelle storie al cinema a me sarebbe molto piaciuto poi purtroppo si è deciso di fare il resettone perché disney è fatta così ma non è quello il problema secondo me e non è così male cioè non è sono d'accordo che non sono dei gran bei film capiamoci non dico che siano dei capolavori ma non sono neanche così brutti è solo che al solito la come sempre tra l'altro il phantom di star wars si schifa di tutto quello che viene fatto dopo i primi tre film perché perché considera i primi tre film dei capolavori inarrivabili cosa che non sono perché i primi tre film sono stati importanti questo sì ma sono ben lontani dall'essere dei capolavori i primi tre film di star wars non sono tanto diversi dai film marvel questa la metto io lì così i primi tre i prequel sono terribili sono terribili perché ci sono talmente tante stronzate dentro oltre a essere noiosi gran parte non tutti ma di star wars non tutti ma l'ultimo non è brutto come divertimento se non altro l'attacco dei cloni e la quello prima è ancora peggio forse la minaccia fantasma è imbarazzantina i sequel ribadisco non dico che siano belli però sono gradevole io non li ho trovati così terribili mi sono anche divertito mi ricordo che quando è uscito il terzo il motivo principale perché tutti erano incazzati no che schifo è tornato palpatine e io ero lì che dicevo e quindi qual è il problema poi tra l'altro è tornato palpatine perché hanno ammazzato il cattivo prima ma magari mind keep ma magari no aspetta di verità intendi quella del fume cioè di legacy intendi quella ambientata nel futuro ma non lo si poteva fare era un futuro troppo lontano io mi sarei accontentato di avere la trilogia di di tron quella di non mi ricordo l'autore vuoi forse dire che le menzioni dei midichlorian ma mio dio le avevo rimossi perché me le hai dovuto ricordare i midichlorian non ne parlano più nemmeno loro perché è una cosa talmente di merda beh si dart maul a me piace molto dart maul per le apparizioni successive ah no giusto aspettate oh no che schifo alla fine di i han solo hanno fatto tornare in vita dart maul che merda ok no però ok mi era già successo ok questo è per dire che chi critica poi anche più cazzo vero vero no ma senza i fumetti i fumetti non sono canon quelli a parte quelli post cosa ma maul torna in vita si scopre che non è morto in star wars la battaglia come è che si intitola clone wars in clone wars maul è vivo e ti spiegano perché e te lo fanno vedere in tutte le salse e quella è canon da quando esiste e le trame dell'ultima teologia sono riprese al minimo dai fumetti romanzi non completamente certe cose si il fatto del figlio il fatto del figlio che passa al lato oscuro sono tutte robe che erano già accadute in realtà avevano due figli Leia e Han uno diventava buono e l'altro diventava stronzo tipo hanno salto il personaggio di Luke no non c'entra un cazzo perché Luke non va a vivere sull'isoletta si sposa credo abbia un figlio anche non mi ricordo esattamente quelli non li ho mai letti sinceramente però ci sono tante storie e il ritorno di Palpatine esattamente allo stesso modo perché viene clonato questo si questo si questo è canonico almeno finché non dicono che non è canonico però si in teoria è canonico tutti i fumetti Marvel pubblicati post acquisizione sono canonici questo qua è di questa cioè è del 2020 e riempie un po' di buchi poi come saranno lo so perché non l'ho ancora letto oh direi di credo di ricordarmi in questo posto ah Vederone che bello non lo so la storia che va che torna a coso lì sul pianeta del cacchio non mi sembra molto interessante però peccato soltanto che abbiamo deciso di farli cartonati perché non era bello c'era il cugino il fratello di Jabba di Attene che era palestrato questo non me lo ricordo però in realtà nel prequel la cosa divertente di Jabba è che nei fumetti quelli classici prima che Jabba apparisse sullo schermo già era stato inserito il personaggio e non era Jabba cioè non c'entrava niente non costava 13 su panini sì però il prezzo di copertina è 16 è solo che hanno fatto casino sul sito chissà se è ancora così vediamo dart vader 1 sì costa ancora 12.35 per cui se volete comprarlo vi suggerirei di farlo prima che lo mettano a posto anzi no non fatelo non rubate i soldi a panini che ha sbagliato sul sito dovete dirglielo sul facebook in modo che lo mettano a posto una cosa che non capisco i nuovi più bene ma sì effettivamente allora come gli hai richiesto l'euro quando ha fatto casino dovessi dare 3 e il fuga ciclope sì vabbè non fa ridere ma ovviamente nessuno non lo fai perché è un errore loro cioè non sei tu che devi correggere i loro errori se loro sbagliano pagano quindi se mi mandano una roba che costa di più di quanto c'è scritto i soldi glieli chiedo e non lo stavo segnato dai monen se non sbaglio boh non lo so Ivan non me lo ricordo però ci può stare va che bello che cosa io sì è vero sono bellissimo comunque mi sa che questa live finirà presto perché ho mal di gola e non riesco più a parlare tra l'altro stasera in teoria c'è Kiri io credo ma non so se ci vado perché sono un po' stracchino quindi mi sa che mi riposo oggi vediamo se Kiri ha detto qualcosa chi ci sarebbe io sono letta mentre acceniamo oggi vengo giuro la sera dnd non lo so l'acquisizione è vero nel 2012 hanno detto che tutti i fumetti impressionanti non sono più canalici quindi non li ripubblicano più no li ripubblicano sì però non sono canalici c'è scritto legends cioè li ripubblicano perché sono pezzi di storia del fumetto americano in realtà non tutti ma alcuni sì quindi li ripubblicano ma ci scrivono sotto star wars legends che vuol dire è star wars ma non è canonico scusate devo andare a tipo farmi un test di gravidanza ho mandato la clip sul gruppo grazie non so dove mandarvi vi mando da non lo so pelati e bambini no ma non sono malato mi pizzica la gola e mi dà fastidio che peccato non sono canale già vero fan di star wars non li leggo va e rinforzando in provare io ho recuperato la prima teologia 4-5 non mi è piaciuta domi 21 ban mi spiace ban dillo che sei andato in discoteca e sei preso esatto sono andato in discoteca ho preso il covid è molto brutto va bene dai vi faccio un ride a Rob McQuack che sta facendo cose perché Rob mi sta simpatico no non faccio non faccio ride a Terlas Raptor che palla comunque ci vediamo domani che è venerdì in teoria potere pelato mi sono raffreddato andando bene e